Un posto al sole, nuove puntate, Alice si avvicinano, ma Chiara torna a Napoli. Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3, dopo una prima fugace apparizione in videochiamata. È giunto il momento del ritorno di Alice Pergolesi. La ragazza farà rientro a Napoli nell'episodio di mercoledì 23 novembre e porterà una ventata d'aria fresca nelle trame del derilidrama per Tenopeo. La nipote di Marina sarà infatti al centro di una vicenda sentimentale, che si preannuncia decisamente interessante. Le anticipazioni rivelano infatti che la giovane si infatuerà dello chef del vulcano Nunzio, occhio però perché a breve è atteso anche il ritorno di Chiara Petrone, che complicheranno un poco le cose. Nel frattempo Marina si aprirà con Roberto e proverà a superare il trauma per le violenze subite. Purtroppo però un nuovo dramma attende lei, Ferri, Serena e Filippo. Nella puntata di Un posto al sole di mercoledì 23 novembre, Alice, Fabiola Balistriere, farà ritorno a Napoli e avrà modo di riavbracciare Roberto, Riccardo Polizzi Carbonelli. La ragazza entrerà subito nel vivo della narrazione mostrando un certo interesse per Nunzio, Vladimir Randazzo. Al momento non risulta ancora chiarissimo come reagirà lo chef del vulcano dinanzi all'avance della nipote di Marina. Anche se le prime anticipazioni sembrano suggerire che si creerà un certo feeling tra i due ragazzi. A quanto pare, a favorire la complicità tra i due, sarà la realizzazione di un videotutoriale in cucina. che dovrebbe far guadagnare punti alla nipote di Marina con lo chef, anche se non vengono svelati molti altri dettagli a riguardo. Al momento ce la conferma che Alice mostrerà interesse per Nunzio, ma non è chiaro se quest'ultimo contraccambierà i sentimenti della ragazza. Il figlio di Franco potrebbe quindi liquidare la ragazza derubricando il loro rapporto a semplice amicizia. Ma le cose potrebbero andare anche diversamente. Se il giovane Camarota dovesse tradire la sua ragazza, la trama si farebbe decisamente interessante dal momento che è stato già confermato il ritorno di Chiara, Alessandra Masi. In tal caso ci sarebbe da aspettare uno scontro tra lei e Alice. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina, Nina Soldano, dovrà fare i conti con il trauma per le violenze subite da Fabrizio. A quanto pare la donna troverà finalmente la forza per aprirsi con Roberto, Riccardo Polizzi Carbonelli, e questo consentirà alla coppia anche un timido riavvicinamento. In seguito, i due trascorreranno del tempo con Filippo, Michelangelo Tommaso, e Serena, Miriam Candurro. Ma purtroppo saranno ben lontani dall'essere al sicuro. Le anticipazioni parlano infatti di una nuova terribile minaccia che riguarderà tutti loro, senza però dare il benché minimo indizio sulla natura del pericolo. Nici non è la fel, la copilària s-a maturizzat sever. S-a luvit până acum de fel, de fel, de oameni, de păreri, in tipuri, de caracteri. Si ved cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar ved si altii care luptă, incercand sa mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor sa ajunga tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut habar. Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus, pot eu sa star. Acum de nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, pot sa ma duc tot.